GIOVANI DEL SUD L'associazione culturale a Riganda ha promosso ed organizzato una visita teatralizzata nel tunnel borbonico di Napoli, un lungo tratto sotterraneo che a metà dell'Ottocento, Ferdinando II di Borbone, commissionò all'architetto Enrico Alvino per collegare Piazza del Plebiscito con Piazza Vittoria, passando al di sotto del Montecchia. Lungo il percorso intercettò la rete di cunicoli e cisterne legate all'antico acquedotto del Carmignano che serviva alla città di Napoli ed in particolare alla zona di Pizzo Falcone. Il tunnel costituiva una possibile via di fuga verso il mare per la famiglia reale e per raggiungere facilmente la caserma Vittoria di via Morelli. Il percorso nel secolo successivo fu abbandonato per poi essere riutilizzato come rifugio antiaereo nella Seconda Guerra Mondiale. In seguito diventò un vero e proprio deposito di vecchie auto. Gli ospiti che parteciperanno all'iniziativa dell'Associazione Ricanda saranno invitati a riscoprire la vera anima della città con una visita guidata fuori dagli schemi, dove i racconti, gli aneddoti e le credenze popolari si intrecceranno per dare vita ad un vero e proprio viaggio attraverso il tempo e lo spazio. L'appuntamento è fissato per venerdì 9 novembre alle ore 19.30 al Vico del Grottone, una traversa di via Gennaro Serra, alle spalle della Basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito. L'inizio della visita è previsto entro le ore 20. Grazie a tutti. Grazie a tutti.